salve a tutti in questo video pilota parlo di quello che vorrei fare nei video tutorial per obs studio allora all'inizio vorrei proprio parlare di obs studio quindi proprio aprire il programma e farvi vedere obs studio come funziona e adesso state vedendo obs studio in grande che registra obs studio se stesso vabbè brutto vedersi ma sarà così e vi faccio vedere all'inizio tutte le modalità di come si installa obs studio prese addirittura del sito ufficiale poi le impostazioni trasmissione output audio eccetera eccetera tutte le impostazioni ve le spiegherò per filo per segno e vi dirò le varie opzioni a cosa servono e come vanno impostate per le varie e vostre esigenze anche per lo streaming video poi passerò a parlare dell'audio l'audio di un microfono per esempio io ho installato questo fichissimo microfono della rode nt usb ok e farò sempre riferimento al mio microfono un sistema operativo linux che sto utilizzando in modo da spiegare meglio nella realtà come si usa proprio uso il mio sistema come esempio per spiegare come ho configurato quindi è un qualcosa di reale perché lo sto utilizzando anch'io per fare lo stesso video tutorial poi parleremo anche dei vari proprietà dell'audio filtri e audio avanzato che sono cose importanti anche perché ha senso dare un ritardo l'audio poi vedremo tutte le fonti di acquisizione video cioè per esempio questo è lo schermo che sto muovendo questo è la webcam che sto muovendo ok poi parleremo di altre fonti esterne che si possono utilizzare tipo con delle scatolette di acquisizione hdmi è possibile arrivare in usb 3 nel computer e prendere da una videocamera poi è possibile avere più fonti e anche per esempio immagini e altre chroma key volendo e poi parleremo delle scene come si compongono le scene come si fanno delle piccole transizioni tipo questa ok poi si può anche avere la classica transizione vuota c'è schermo nero che fa comodo per iniziare il video di solito l'individuo si dovrebbe secondo me iniziare così poi ci sono io che parlo è così grande poi quando voglio far vedere il programma sarò così in grande quando ho finito di far vedere tutto e non ho più da parlare chiudo in questo modo ok adesso posso andare in questa modalità qui e per questo video tutorial che è il video pilota per me è tutto